Giovedì è fondamentale per poter mettere al tavolo e poter discutere perché allo stato attuale, stante i comportamenti del fondo Melrose e delle maestranze dirigenziali della GKN, noi ci troviamo ad essere in assoluta distanza da qualsiasi ragionamento. Questa attivazione del tavolo diventa il passaggio per poter argomentare da ciascuna delle parti quelli che sono i passaggi per il futuro. Dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico è arrivata la conferma giovedì mattina ci sarà il primo incontro-confronto a livello nazionale sulla vertenza GKN. A dirlo è il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni che ha spiegato in una dettagliata conferenza stampa come sia assolutamente inaccettabile l'atteggiamento di Melrose, proprietaria della fabbrica. Cercheremo di capire anche da dove sono venute le risorse per gli investimenti che la proprietà di GKN ha fatto, non dalla Regione, tiene a sottolineare Gianni. La crisi dell'auto non può certo giustificare quanto successo. Mi attiverò per una legislazione nazionale, ha proseguito Gianni, che preveda sanzioni e limitazioni per questi fondi che, come nel caso della Beccherta di Figline Valdarno, si muovono secondo logiche finanziarie e non produttive. Noi abbiamo da stamani un punto di riferimento nell'interlocuzione con chi si è reso protagonista di questo atto così arrogante, inaccettabile e che va assolutamente superato sospendendo, questa è la posizione della Regione Toscana, la procedura di licenziamenti perché è assolutamente immotivata. È una questione nazionale perché quello che è accaduto a Firenze, a Campi Bisenzio, con la GKN è un caso che può avere poi a seguito. La legislazione italiana deve cambiare, adeguarsi, perché oggi non hai più di fronte gli imprenditori. In questo caso la logica che ha portato incomprensibilmente a dire si chiude non è una logica di produzione dell'oggetto, ma è una logica finanziaria.